Il problema del sociale, perché tanto sarei comunque etichetta da prescindere, però magari grazie ai miei fan, ogni due mesi forse non so quanti mila euro portiamo ai bambini della casa di Brutellano a Roma, e poi c'è anche la roba che c'è la mia vita. La stagione di questa, la stagione di questa, la stagione di questa si fa o si vince se la roba. No, la stagione di questa, 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 la stagione di questa. S institute smo su chi scrive una cossa e su chi si consegna e dico niente! Non per forza dobbiamo fare che tutte le persone... Assunivamente stiamo provengh tired. Volevo avevo detto questo! Scusami! Avrebbero collegato tante cose, ma ho detto che può essere anche una cosa in più! Yes! A vedere com'è scritto, però, ah, fuori attualmente che è bellissimo! Perfatti che l'avevi detto di Innenstrae o della televisione, delle t нее show... E io ho semplicemente risposto, non ti sto attaccando, parlando che sai a volte scrivere non vuol dire per forza non fare delle cose non scrivere delle cose non vuol dire non farne completamente delle altre solo questo troppo sì, tali così scusate, sempre a proposito adesso poi passo la parola a Cecilia e a Massimo Bertattini chiedevano è un punto bello per il notario sembra che fai a noi fai a diventare fai a diventare di chi o meglio non so che più di là a massimo di di fare comunque a vita di questo un altro piccolo perché non è veramente ridicola cosa